Un cane per tutta la vita, non solo per Santa Lucia e Natale. Dal canile rifugio, gestito dall'associazione SS Randagi, arriva l'accorato appello in vista dell'approssimarsi delle festività durante le quali vengono scambiati migliaia di regali. L'arrivo in famiglia di un animale non deve essere dettato da una scelta presa sulla scia dell'emozione, ma da una decisione responsabile. Ne va del benessere dell'essere viventi in questione. Noi pensiamo che i bambini debbano vivere la realtà nella quale i cani si trovano. Sarà sicuramente un'esperienza che gli resta l'adozione di un cane e regalarlo a Santa Lucia vuol dire renderlo un oggetto. Il cane non è un oggetto, è una scelta che deve essere fatta, ponderata. Tutta la famiglia deve essere accondiscendente e non solo perché il bambino vuole il cucciolo, il bambino vuole il cagnolino. Il cane è per tutti, è un membro della famiglia e pertanto si ritiene che per Santa Lucia non debba essere regalato. Santa Lucia porterà la cesta, la pallina, il guinzaglio, la ciotola, ma non porta un essere vivente. Stesso discorso vale per Natale, cioè è veramente una cosa incivile. Incivile ovviamente io canto fuori dal coro, noi siamo dalla parte dei cani, degli animali e non siamo dalla parte di chi commercia su queste cose, però comprarlo o regalarlo durante le festività mi sa tanto di una cosa che agosto è qua. E questo discorso vale per tutti gli animali, che è bene ribadirlo, non sono oggetti. Intanto per domenica 15 dicembre l'associazione ha organizzato una cena solidale per raccogliere fondi per sostenere le spese mediche dei cani ospitate in struttura. Amici pelosoni che hanno fatto da modelli per le pagine del calendario 2020. Anche questo è una cosa utile e anche questo ci aiuta ad andare un attimo a ricompensare le nostre economie.